perché si chiama piazza della meridiana questo perché lì c'è una meridiana ora quella non è una meridiana questa è la soluzione del quiz è brutto spero che non mi sentano i proprietari della villa se guardate se vi intendete un po di meridiana noi a paderno abbiamo uno dei maggiori aspetti mondiali quella non funziona poi citerò su internet la spiegazione del perché perché non funziona e l'hanno fatta perché in realtà quella una coppia la vera meridiana stava in una di queste due ville qua adesso è stata distrutta da tempo ma ci sono le foto di quando c'era la piazza ha preso credo il nome da da quella meridiana lì che viene chiamata così ma ripeto quella meridiana se volete leggerci le ore del sole non andate molto lontano quella che c'era lì era funzionante e probabilmente i proprietari della villa dicono la vogliamo avere anche noi e l'ha fatta e adesso è rimasta quella che non funziona questa è la soluzione del quiz